Buon compleanno, mio piccolo uomo! Oh, mamma! Disgustoso! Com'era papà? Aveva la barba ispida, una risata buffa... Avrei voluto conoscerlo. Ho qualcosa per voi, da vostro padre. È un battone magico! Ho scritto una formula magica per vedere di persona che fossero diventati i miei figli. Questo incantissimo lo riporterà qui? Vuoi dire vivo e vegeto? Papà voleva vederti più di ogni altra cosa. Per le zanne di Zavar! Com'è? Non lo so, è iniziato per caso! Resisti! Papà? Non me la porta sopra! Papà, sei a casa tua! Piano, piano! Abbiamo 24 ore per riportare qui anche il resto di papà. Ci attende una missione! Ogni impresa ha inizio dalla manticora, l'impavida avventuriera. Tu parli di Cory? È in cucina! Presto, aiutatemi! I bocconcini di grifone dovevano uscire da un pezzo! Quella è la manticora! Voi due vi siete vissi in un bel guaio! Salite sul furgone e vi scorto fino a casa. Vi avverto conto fino a tre! Ok! Ian, ma che cosa fai? Non lo so! Alzami! Cerco i miei figli! Oh, sono in missione! Ma tranquilla, gli ho detto della mappa, gli ho detto della gemma, gli ho detto del maleficio! Non gli ho detto del maleficio! Del cosa? I tuoi figli sono in grave pericolo! Tieniti forte! A non affrontare le difficoltà! Oh no! Siamo morti, morti, morti! Non direi! Non ci riesco! Non riusciremo a vederti, papà! Ce la puoi fare! Io credo in te! La mia pancia non sbaglia mai! Dico bene, puoi dirlo forte! Sto arrivando, ragazzi! Non mettetevi nei guai! No! 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 No!